ciao bentornata salve abbiamo altre tre domande per te la prima è hai un hobby una passione in realtà non ho tantissimi interessi però ricordo che quando ero piccola mi piaceva andare a girare per la casa esplorare la mia casa è una casa molto grande e in soffitta una volta ho trovato un quadro di una mia antenata che dicevano tutti fosse uguale a me e in effetti era vero era come guardarsi allo specchio indossava un grosso smeraldo verde sì hai un affetto nella tua vita qualcuno a cui vuoi veramente bene e che ti vuole bene in realtà molti dei miei dei miei familiari sono morti nei genitori sono morti quando ancora ero piccola quindi mi è rimasta solo mia zia che però si prende molta cura di me e credo che credo che sia lei smettila no non è vero scusi dicevo mia zia nessun altro oltre a tua zia ti fa compagnia a volte ho degli amici ma non tutti possono vederli si nascondono un amico almeno capisco ti ringrazio grazie grazie a tutti